Vediamo come funzionano le opzioni del punto di ancoraggio per gli oggetti. Nel momento in cui io creo un oggetto, nelle ultime release, se io vado a selezionare lo strumento ruota, il punto di ancoraggio è già posizionato nel centro, per cui posso ruotare la forma su se stessa. Vediamo però che cosa succede se io creo un oggetto e poi lo deseleziono perché mi metto a fare altro. Nel momento in cui torno, il punto di ancoraggio è posizionato al centro del frame, non più al centro dell'oggetto. In questo caso io devo prendere lo strumento sposta punto, che si richiama col pulsante Y da tastiera, vado a prendere il punto di ancoraggio e lo posiziono manualmente. Ora, così lo sto posizionando in maniera assolutamente libera. Se voglio posizionarlo perfettamente al centro o su uno dei punti, vado a selezionare aggancio. In questo modo posso posizionarlo facilmente e vedo anche le guide di allineamento. Io però sono pigro, non ho voglia tutte le volte di azionare questa spunta, per cui invece so che basta che tengo premuto command e lui me lo allinea automaticamente senza bisogno di premere tasti in più. Sto muovendomi liberamente, nel momento in cui premo command me lo allinea al centro. In questo modo posso ruotare l'oggetto su se stesso, anche dopo aver compiuto altre azioni. Se voglio che questo punto di ancoraggio venga mantenuto sempre al centro degli oggetti che io vado a creare, c'è un modo. Ed è quello di andare su preferenze, generale. E qui selezioniamo c'entra il punto di ancoraggio nei nuovi livelli forma. E gli diamo ok. In questo modo, quando io andrò a creare una nuova forma, il punto di ancoraggio sarà sempre collocato al centro. E anche se io deseleziono l'oggetto e lo riseleziono, il punto di ancoraggio rimarrà posizionato al centro. E anche se io deseleziono l'oggetto.